Ciao a tutti ragazzi da Kim Farmer, volevo avvisarvi che stasera dalle 8 alle 8 e mezza sarò in live su Twitch, in streaming, con il gioco di Farming Simulator 2015 nella mappa UNA 2015, nuova versione 5.4, vi aspetto in tanti e per commentare vi spiegherò un po' la mappa è tutto ok, a stasera, ciao a tutti